Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente per la terza volta insieme a Luca, a Feppe la stessa, sì, come anche con Buzz, che ci porta la sua deck profile che ci porta la sua deck profile di Marinsias. Ma prima di tutto vi ricordo che se volete acquistare il prodotto coreano trovate il link di Jack Store qua sotto in descrizione col codice sconto e il referral link. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon trovate il mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo io me ne vado. Guarda che bello, blu è l'engine e viola è l'entrap. Ma baffanculo! Il blu tang, lo starter più forte del mazzo, il normal mandi il mostro Marinsias dal cimitero e quando vai l'incata via guardi i miei tre carte e se ce n'è una Marinsias stai aggiungendo la mano, gazella di noi altri. Il mazzo non sopravvivere senza questa, è l'unico extender che hai a borduoto, tutto il resto ha bisogno di carte in campo, questa no, questa per fortuna ha bisogno di una carta al cimitero, quindi se ti becchi ogre sulla normal questa è l'unica cosa che ti salva. Tre cavallucci, Seahors, one car combo come le altre due carte che abbiamo appena visto e extender generico per Marinsias, speciala in zona puntata e quando è al cimitero tranne il turn in cui c'è stata mandata si rimuove per specialare Marinsias a mano, secondo effetto non lo usi mai, non credo di averlo mai usato, questa mazza cosa ci ha avuto parecchio, non credo di averlo mai usato, secondo effetto di Seahors forse una volta. Ci piacciono gli extenderi Marinsias, penso che ogni singola carta del mazzo sia un extender, all'eccezione dell'entrap forse, ma anche quella ogni tanto. Due pascalus è l'indeciso se giocarne due o tre, sono sempre stato indeciso perché da quando sono usciti su parte di Marinsias, bene o male lo sto riprendendo ogni tanto, due o tre è sempre una scelta difficile, questo su normal special, la speciala mostra Marinsias da mano è a tutti gli effetti lo starter più forte, però se si becchina l'entrap è un problema perché effettivamente Blue Tang è più completo, cioè si becchina l'entrap perfetto, lo linki e comunque fa qualcos'altro, questa invece se prende l'entrap è lì che ti guarda. La cimitero non nel turn in cui è stata mandata, si rimuove per raggiungere maggior trappa a Marinsias da cimitero a mano e questi invece lo usi sempre, queste sono andatamente forti. Due mandarin, l'anno scorso non si utilizzavano, testando mi sono reso conto che effettivamente sono forti, non c'entra dire che sono veramente forti. Hanno preso piedi quando c'era tier, ma quando c'era tier Marinsias non esisteva, faceva veramente, faceva pena, non riusciva a esistere con il mazzo perché è un mazzo che gioca tantissimo col cimitero e i shuffler erano un problema grosso. Questo è speciale in zona puntata da link Marinsias se almeno due Marinsias in campo, che è una cosa che succede molto spesso perché i due link 1 bene o male vanno a fare una linea, dopo vediamo, che te la fai evocare tranquillamente, quindi se hai abbastanza carte in mano questa la mandi di Blue Tang, se volentieri. Si rimuove dopo che sia specialata, non fa niente. Manos the Maiden, altra che probabilmente si può cattare, magari per la terza mandarin. Non lo so, è forte perché bene o male ha una sua utilità, ma ci sono troppe forme di emozioni, non di distruzione nel meta, questa non protegge assolutamente niente, è solo un extender generico che entra e sta lì. E il secondo effetto di rimuoversi dal cimitero per attaccare un mostro link come equipaggiamento, come fosse la terreno a un link Marinsias, si è utile, ma se non hai la terreno in campo forse non ne vale veramente la pena. Una terreno e tre dive, questo è un altro punto di dibattito, i dive, se giocarne due o tre. Ne ho sempre giocati due, tuttavia non sto giocando Silent Mining per schivare i Droll, che sono ovunque, talmente ovunque. Ho preferito giocare queste perché Droll non dice assolutamente niente, se hai la terreno bene, se hai una di questi in mano ti vai a prendere la terreno speciale da deck. Questa speciale da cimitero, non link, e se hai la terreno speciale da deck. Droll è l'entra più forte del meta, bisogna trovare modi di girarci attorno. Il mazzo non ci va troppo sotto a Droll, un po' sì, perché bene o male due addini li fai sempre, ma già che non hai il terzo da fare di mining, schifo non fa. Due wave, anche qui c'è chi ne gioca 1, c'è chi ne gioca 2, c'è chi ne gioca 3. Secondo me due va bene, perché se la vedi in mano non vai sotto a Droll, o meglio, sì ti addi una magia e poi basta, questa è in mano e mi hai tirato a Droll, ok, io non devo più aggiungere niente, a posto così. A volte capita di avere le due in mano, fa comodo, non è once, non puoi usare due volte, finché il tuo link in campo te li tieni entrambi in mano, le spari entrambi una dietro l'altra. La deck stupida del turno, l'ice jade nuova, questa cosa scarti un mostro da mano, un mostro acqua da mano, si speciala e fa un token livello 3, lei è un tuner, 3-10, però si è locata in acqua. Ovviamente il mazzo non può giocare le mostri che non siano acqua, quindi gioco soltanto il sincro delle ice jade, che però qua dentro in realtà ha una buona sinergia, funziona abbastanza bene. Può funzionare anche l'extender generico per il mazzo, molti link marincest richiedono acqua e non marincest. Due nettle, perché extender generico, uno. Due, quando non ce l'avevo ne sentivo la mancanza. Il poter rimischiare, questa si rimuove, si speciala quando controllo il mostro acqua. Dal cimitero si rimuove per rimischiare tre mostri acqua dal cimitero nel deck. Con questa ci rimischi praticamente sempre i link, perché i link dopo due turni che hai giocato li finisci. Con questa, bene o male, vai tranquillo che non li finisci. Avanti con le carte Entrap, Barago in second, tre Gametiel, tre Nibiru, tre Imperma, tre Ash e tre Droll. Non c'è molto a spiegare, Droll entra più forte del formato, Ash, perché se vedi Branded vuoi fucilarlo. Imperma e Nibiru insieme sono forti perché neghi, te lo Nibiru, anche se non negate in campo. Che è particolare, o non so se metterlo di meno di side, ma la cosa forte è che tu lo metti, cioè se fai secondo, lo metti sul treno dell'avversario, poi usi Zelantis e te lo riprendi, perché Zelantis si porta a sul treno del proprietario. Passando all'extra, due Siege, questa ha da magia, vuoi dare la terreno a meno che non parti di monocarta, in quel caso probabilmente ha di la magia che ti estende, ma si spera di non partire da monocarta, perché il mazzo può farlo, ma non è comunque una situazione felice. Due Bruce Lug, rea da mostrare al cimitero e ti lock in acqua. Quello che dicevo prima con Mandarin è che tu fai così, metti una e due, la freccia punta di qua, qua puoi specialare Mandarin dal cimitero, anche dalla mano, però idealmente. Due Anemone. Il link più forte del mazzo, tutti gli effetti, è quello di mezzo. Tu per qualsiasi combo fai passi per questa, non esiste che non ci passi. Specialare al cimitero, quando va al cimitero si aggiunge carta Marineses, il mono Crystal Art, perché in certi matchup purtroppo serve, non lo vorrei giocare, non mi piace per niente, ma a certi matchup è fondamentale. In certi matchup non lui sopravvivi senza questo, in particolare matchup con i mazzi delle trappole. Una Marbled Rock, perché aggiungere le carte del cimitero è utile. Se hai già la trappola in mano, link 3, fai questa, riaggiungi carta, ti fai un più uno gratis. Se non hai la trappola in mano, con il triangle, l'aggiungi, scarti un mostro, acqua, aggiungi trappola. Dal cimitero si rimuove, speciala mostri link fino a link 3. Nel senso, per specialare, un link 2 e un link 1. Effetto mostruoso, la recovery di questo mazzi è pazzesca. E comunque non gli basta per essere abbastanza forte da dire, wow, è più uno. No, non basta. Grave a Borrif, e non c'è molto da dire. Pesca, ti fa pescare. Diventa grossa, questa diventa estremamente grossa sotto Battle Ocean. In Steme Phase rimuove il mostro acqua dal cimitero, ti fa pescare uno. Ogni volta che un mostro va rimosso, prende 600 d'attacco, questa diventa molto grossa molto velocemente. Acqua Argonaut, l'unico effettivo negate del mazzi, che non ne ha altri, effettivamente. Ah, finché nella zona mostri extra, poi l'avversario può attaccare soltanto lei. Staccando un materiale, cioè specialando uno dei mostri che ha come equipaggiamenti, puoi negare maggio trappola. Questo non l'ho spiegata questa cosa. Allora, la terreno, in pratica, quando tu linki un mostro in zona extra, ti permette di equipaggiare sotto, come se fossero dei equipaggiamenti, dei link dal tuo cimitero. Quindi, esempio stupido, hai evocato lei? Metti sotto uno. Questi hanno 600 d'attacco ciascuna, quindi questa è la 200 di base, quindi questa prende 2000 d'attacco in sostanza, per quello che dico le torri. E specialando uno di questi, puoi negare maggio trappola, solo nel turno dell'avversario. E l'altro effetto che ha è che puoi rimbalzare un tuo mostro d'acqua per rimbalzare un mostro dell'avversario. Non succede quasi mai, però. Zelandis, perché è la carta più forte del mazzo, non si chiama Rinses, ma poco ci manca. Questa cosa è mostruosa, nel senso che è un'acqua in un mazzo in cui tu ti lo occhia. Vuol dire che se l'avversario non gioca a mostri acqua, tu attivi l'effetto, porti via tutto il board e gli speciali sui tuoi mostri. Perché sei tu che speciali i mostri, e tu non puoi specialare i mostri che non siano acqua. Se l'avversario ha qualcosa che non sia acqua, non torna. Prende e va via. I due sincro per Aigirin, perché è un'aggiunta al board. Il board di Marins è sempre stato Link 4, se va bene Todali, la seconda di quanti extender giochi, non c'era Todali. Io ho preferito questi a Todali per il semplice fatto che Aigirin porta di più di quanto non porterebbe Aigirin Nintendo, il mostro, quello da main deck, non lei. Lei effettivamente è meno forte di Todali, anche se è opinabile come cosa. Però Aigirin porta più utility di altre 3 entrap effettivamente, perché lì se non ci fossi stato Aigirin avrebbe rimesso altre 3 entrap. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se rivolete Luca e le sue waifu con la coda. Questo è molto waifu effettivamente. Detto questo ragazzi fatemi sapere se vi siete mai segati sulla serenetta e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.